Buongiorno a tutti, allora, 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 dopo le news arrivano le call news e di che cosa parleremo questa, anzi stamattina, ormai è mattina. Allora parleremo di asteroidi e del condubbio a terra asteroidi eccetera eccetera perché diciamo che questa notizia non è che mi ha fatto stare molto molto tranquillo, ecco, e mi fermo qua. Poi parleremo di una scrittrice che ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura lo scorso ottobre 2022 quindi parleremo un po' di curiosità su questa scrittrice che appunto ha vinto il Nobel per la letteratura. E infine parleremo di carne, carne del passato, i nostri antenati quando ha iniziato a mangiare carne, che cosa mangiavano eccetera eccetera eccetera, un po' di queste curiosità qua. Quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, partiamo perché le notizie, la prima è veloce veloce da allettarsi le orecchie e le altre sono un attimino più arzigogolate se mi permettete il termine. Comunque parliamo di asteroidi. Queste scoperte gettano nuova luce sulla dinamica degli asteroidi nel sistema solare interno, inclusa la probabilità che asteroidi potenzialmente devastanti siano diretti al nostro pianeta. Un gruppo di scienziati ha scoperto che gli impatti degli asteroidi che si sono scontrati con la Terra, compreso quello che ha ucciso i disonsauri, coincidono con alcune collisioni di rocce spaziali avvenute anche sulla Luna. Una ricerca recentemente pubblicata sulla rivista Science Advance si basa su 135 microscopiche perle di vetro risalenti a 2 miliardi di anni, trovate nel suolo lunare e raccolte durante la missione lunare Chang'e-5 dell'Agenzia Spaziale Nazionale in Cina. Il team internazionale guidato dalla Curtin University in Australia ha spiegato che le microscopiche pietre di vetro si sono formate grazie al calore e alla pressione degli impatti dei meteoriti. L'età di alcune di queste perle di vetro lunare indica che si sono sviluppate circa 65 milioni di anni fa, in coincidenza con l'impatto di Cixxulob che causò l'estinzione dei dinosauri. Secondo Alessander Nemchib, professore presso la Space Science and Technology Center, presso la School of Art and Planetary Science della Curtin University, questi risultati suggeriscono che i tempi e la frequenza degli impatti delle rocce sulla Luna potrebbero essersi riflessi sulla Terra, raccontandoci di più sulla storia evolutiva del nostro pianeta. Estinzione dinosauri, un gruppo di asteroidi precipitò anche sulla Luna. Lo studio rivela inoltre che i maggiori eventi di impatto sulla Terra non sono stati eventi indipendenti e che sono stati accompagnati da una serie di impatti minori. La ricerca getta nuova luce sulla dinamica degli asteroidi del sistema solare interno, e mentre l'erosione e l'attività geologica sulla Terra cancellano gran parte delle prove degli impatti passati, sulla Luna non vengono cancellati dagli agenti atmosferici, quindi i crateri da impatto sono molto più frequenti, così come le perle di vetro lasciate nel suolo. Bene, mi soffi un attimo il naso e proseguiamo con la seconda notizia. Bene, insomma, è preoccupante, però se tra 65 milioni di anni viene giù un altro steoride, penso che non so se ci saremo ancora, io no di sicuro, ma magari il mondo si è evoluto talmente tanto che le asteroide fanno così e lo eliminano come ridere. Andiamo a leggere di questa dunetta, dunetina, che ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Quattro ore dopo essere stata nominata premio Nobel per la letteratura, per il colaggio e l'acutezza clinica con i quali scopre le radici, gli allontanamenti e le costruzioni collettive della memoria personale, Annie Ernaus, che, mancata la telefonata che avrebbe dovuto darle la notizia, ha preso del riconoscimento ascoltando la radio. Si è detta emozionata perché questo premio è qualcosa di imbenso rispetto alle mie origini. Mi è capitato di dire che volevo vendicare la mia razza, ma all'epoca, nel 1962, non sapevo come. Ci sono riuscita con le parole. Chi è e di cosa scrive Annie Ernau? Ernau, 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 spero di averla pronunciato giusta. Ernau. Vendicare la sua razza con le parole. La lotta di classe attraverso la letteratura. Con la sua razza, ha messo tra virgolette, Annie Ernau intende riferirsi al proletariato, cento sociale da cui provenivano i suoi genitori e da cui lei, che spesso si definisce transfuga di classe, si è emancipata grazie agli studi universitari alla professione di insegnante di liceo. Già dagli anni 70, con una prima prova dal titolo Gli Armadi Vuoti, in Italia è un tempo edito da Rizzoli ma ora fuori catalogo, al mestiere di insegnante affiancato la scrittura di romanzi. Il successo editoriale l'ha accolta però solo tardivamente. Nata nel 1940 a Lillebonne, in Normandia, come Annie Dukesne, Ernau è il cognome del marito, sposato nel 1964 da cui si è separata negli anni 80, era figlia di una coppia della working class del territorio, primo operai, poi gestori di un piccolo bar drogheria di Ivetù, comune normando di non più di 12.000 abitanti, in una donna, norma 2018, ricostruzione, va bene, asciuttissima, all'indomani della sua morte, del rapporto avuto negli anni con la madre rispetto a quest'ultima scrive «Ho dimenticato i nostri conflitti. Da studentessa di lettera avevo di lei un'immagine purata, priva di urla e di violenza. Ero certa del suo amore e di quest'ingiustizia. Vendeva patate e latte per permettermi di stare seduti in un'aula universitaria a sentire parlare di Platone». La consapevolezza raggiunta durante gli anni universitari del privilegio di poter studiare e attraverso lo studio affrancarsi dalla sua condizione originaria non l'avrebbe abbandonata neanche dopo ed è la ragione che la spinge nel 1964 ad affrontare un aborto clandestino. La nascita di un figlio, come racconta nel libro L'evento, sempre l'orma 2019, da cui, come vedremo, è tratto il film La scelta di Anne, l'avrebbe riconsegnata alle sue origini al destino già scritto di una vita votata all'accudimento e costretta alla dipendenza economica dall'uomo. La sua opera letteraria, in Italia non ancora tradotta integralmente, è una riscrittura romanzesca di una vecchenda serratamente personale, la sua in dialogo con il contesto storico-sociale in cui, nel tempo, si è inserita. Nessuna vita è mai del tutto propria per il semplice fatto che nessuna vita è immune dai condizionamenti ambientali, da ciò che accade al di fuori del Dio. La sua letteratura, di cui la stessa in Audi ha rivendicato l'impegno, si è piegata all'auscultazione delle consonanze tra private e pubblico, tra micro e macrocosmo, tra memoria intima e collettiva, per poi procedere all'analisi rigorissima, il suo stile noto per essere sprezzante della retorica e della manipolazione metaforica, delle stesse al fine di ricavare, dall'esperienza personale, la sua matrice alienante. In questo senso, e in molti altri, anche quello dell'impegno a dare maggiore rappresentazione alle donne, vittima di una dominazione che è ben lontana dall'essere superata, i libri di Andy Arnaud sono opere che, pur non esplicitamente militanti, elaborano, al di là della tessitura narrativa di superficie, una lettura politica della realtà. In questa ottica va considerata anche il suo primo film da regista, realizzato insieme a uno dei suoi figli, David Ernaud Briot, un'impegnazione di riassemblaggio di materiali derivanti dai filmini girati in Superotto dal 1972 al 1982. Le immagini, al tempo registrate dall'ex marito Philippe, sono mute, mentre scorrono Andy Arnos, autrice e vota incenerrante, legge un testo che le racconta e le ricontestualizza. L'intenzione testimoniale e conservativa, attraverso quei filmini, le memorie di famiglia non vanno perse, si intreccia ad un'altra esigenza, rimodulare in senso nato attivo le memorie conservate, ricondurre all'orizzonte più ampio sia della mitologia familiare sia di un racconto d'epoca, in cui i ricordi di una giovane famiglia si sovrappongono i segni della storia del lato di compiersi e del compiersi di cambiare, inavvertita, la società. L'amante russo e la scelta di Anne, due film da vedere, tratti dall'opera dell'autrice. La Titya Dosh e l'ex danzatore classico Sergei Poludin sono i protagonisti di Passion Simple. Benché si sia cimentata con la scrittura per il cinema solo in questo ultimo anno, il rapporto di Andy Ernaud con la settima arte non è storia recente. È cominciato nel 2008 quando venne riadattato per il grande schermo da Patrick Mario Bernard e Pierre Trividic il suo romanzo L'Occupation, indagine sulla passione divorante della gelosia. Il film intitolato L'Otro, a onor del vero, poco noto, valsa la sua protagonista Dominique Blanc la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Più recenti e rispettivamente del 2020 e del 2021 sono gli adattamenti di Passion Simple in italiano si trova tradotto da Rizzoli con il titolo Passione semplice ed è già citato l'evento. Entrambi i film sono opera di registi franco-libanesi. Il primo è stato diretto da Daniel Arbid il secondo da Audrey Diwan di One. Passion Simple distribuito in Italia con il titolo L'amante russo ripercorre tra riproduzioni dell'estasi immersiva di un amore che si è espresso soprattutto carnalmente e scomposizione analitica di quella stessa perdizione totalizzante. Un anno nella vita della scrittrice tutto consumato del lusso messo tra virgolette l'attesa del ritorno in Francia di un uomo divenuto per caso suo amante un diplomatico russo tanto taciturno quanto capace del silenzio di stabilire con lei una relazione profonda affidata esclusivamente al linguaggio dei corpi. Le parole di Annie Ernaud quando ero bambina lusso significava per me pellice abiti lunghi e ville sulla riva del mare più tardi ho creduto fosse condurre una vita da intellettuale mi sembra ora che sia anche poter vivere una passione per un uomo o per una donna. Il romanzo autobiografico L'evento è diventato invece un film conservando in Francia il suo titolo originale L'Event et Bern mentre per il pubblico italiano è noto come La scelta di Anne premiato come miglior film dell'edizione della mostra del cinema di Venezia dello scorso anno quindi 2021 ricostruisce sulla scena il racconto delle estenuanti peripezie affrontate dalla protagonista Anne dietro la quale si nasconde la stessa autrice per abortire in un anno il 1964 in cui l'interruzione di gravitanza in Francia non era ancora legale e le donne non potevano scegliere liberamente se diventare madri o no. Anche ieri quando c'è stata la conferenza stampa organizzata per commentare il riconoscimento ricevuto Anne Ernault ha evocato l'evento che ha segnato la sua vita l'aborto clandestino subito quando le è stato chiesto infatti se fosse d'accordo con i membri dell'accademia svedese che dell'attrobrirle il premio l'hanno definita coraggiosa lei ha risposto in modo assai eloquente che se parliamo di coraggio allora mi viene in mente Simone Weil quando nel 1974 fece il suo discorso in favore dell'aborto all'Assemblea Nazionale vabbè quelle sono il suo pensiero quindi ci mancherebbe io preferisco sempre dire che in quei casi lì dovrebbe decidere la donna ma non deve essere una una cosa normale che abbia tanto abortisco abbia tanto abortisco abbia tanto abortisco poi ognuno decide secondo coscienza proseguiamo ragazzoli proseguiamo dopo aver parlato di Anne Hernot che probabilmente nessuno conosce nemmeno io passiamo a parlare di carne dei nostri antenati se la mangiavano non la mangiavano da quando la mangiavano eccetera 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 siamo davvero sicuri che i cacciatori raccoglitori del paleolitico 2,5 milioni 10 mila anni fa è il periodo si nutrissero principalmente di carne e molto poco di carboidrati non è la prima volta che degli esperti si pongono questa domanda e rispondono negativamente anche Herman Ponzer antropologo evoluzionista alla Duke University degli Stati Uniti è arrivato a delle conclusioni simili a quelle dei suoi colleghi la dieta dei nostri antenati era variata e influenzata da diversi fattori tra cui il clima il luogo e la stagionalità degli alimenti possiamo imparare molto sul passato guardando alle abitudini dei cacciatori raccoglitori del presente commenta riferendosi scusate il mio raffreddore e i miei occhietti che lacrimano comunque ci si riferisce agli Azza un gruppo etnico che vive in Tanzania concludendo una vita simile conducendo scusate concludendo conducendo una vita simile a quella dei nostri attrinati del paleolitico ma quale paleodieta in un'intervista rilasciata alla rivista Clodawol Ponzer spiega cosa ha imparato osservandoli e quali errori ci hanno portato a pensare che la paleodieta si basasse quasi esclusivamente sul consumo di carne secondo Ponzer ci sono diverse ragioni per le quali quando si pensa ad un uomo del paleolitico non si associa automaticamente alla caccia e a una dieta ricca di carne e di selvaggina innanzitutto proprio il fatto che si pensa a un uomo nei primi anni del novecento la maggior parte dei lavori di etnografia erano scritti da uomini e si focalizzavano sul lavoro degli uomini spiega l'esperto ma se è vero che gli uomini cacciavano le donne raccoglievano da qui il vuoto negli studi e la convinzione che la caccia fosse la fonte principale di sostentamento si definisce paleodieta o dieta paleolitica un regime alimentare che limita le abitudini o quelle che si credono fossero le abitudini dei nostri antenati del paleolitico eliminando cipri processati e latticini la paleodieta originale era ricca di carne ma con gli anni ne sono state create diverse versioni ha spiegato Herman Ponzer non solo al nord in secondo luogo i dati etnografici che abbiamo a disposizione riguardano principalmente le popolazioni del nord dell'artico ad esempio che effettivamente mangiavano più carne per sopravvivere al clima rigido ma le popolazioni che vivevano vicino all'oceano o ai fiumi mangiavano molto pesce quelle che vivevano nelle foreste in luoghi ricchi di vegetazione si nutrivano principalmente di piante l'ultimo aspetto che ha favorito l'affermazione dell'idea che i nostri antenati vivessero prevalentemente di caccia sono le prove archeologiche che sono arrivati ai giorni nostri gli utensili in pietra e i sedi di armi da taglio sulle ossa degli animali resistono molto bene al passare del tempo sottolinea Ponzer i bacchetti in legno usati per scavare le piante invece si deteriorano rapidamente gli azda gli azda azda h a d z azda una finestra sul passato Ponzer ha studiato a fondo le abitudini degli azda una comunità di qualche centinaio di cacciatori raccoglitori che vivono nel nord della Tanzania i risultati del suo studio pubblicati su annual review of nutrition parlano di una popolazione che vive come si viveva nel paleolitico mangiando carne cacciata con armi primordiali e raccogliendo frutti bacche e soprattutto miele gli uomini cacciano con arco e frecce le donne raccolgono alimenti vegetali a mano o scavano con dei bastoni spiega Ponzer osservare in che modo queste tribù vivono ora ci fa capire come si viveva in passato perché queste popolazioni sono lontani dalle tecnologie dagli agi moderni e si comportano come avrebbero fatto i nostri antenati la dieta degli azza cambia notevolmente con il cambio di stagione in febbraio si nutrono principalmente di miele alimento ricco di carboidrati e calorie in luglio di bacche e settembre di carne la cosa principale che ci insegnano gli azza è il fatto che si può essere sani adottando diverse diete ha concluso Ponzer sottolineando che gli unici alimenti da evitare per rimanere in saluto sono quelli del cibo spazzatura bene saranno contenti McDonald's eccetera che continuano a dire che quello è cibo spazzatura detto questo ragazzoni scusate il mio raffreddore ma purtroppo sono i mali di stagione è lieve sembra lieve lieve non dà fastidio no dà un po' fastidio però non mi impedisce di dormire minimamente dal naso riesco a respirare ma sono costretto a respirare più con la bocca ma per il resto non è che è cosa grave ne ho avuti ai tempi biblici avevo di quei raffreddori che erano da winnes deprimati con la febbre che mi arrivava anche a 42 e io non me ne rendevo neanche conto mi veniva solo sonno quando ho la febbre ho sonno mi viene da dormire dormo mi faccio delle dormite immonde e poi mi passa tutto vabbè lasciamo perdere le questioni della nasa io vi saluto vi ringrazio anche oggi abbiamo concluso con i video del gigione cinque bei videoschi interessanti curiosi eccetera eccetera e ci vediamo naturalmente alla prossima perché ah no è vero ragazzi cosa dico vi devo fare le schedine del gigione per le altre otto partite di champions mi ero dimenticato ciao